Continuiamo a parlare di donne perché l'Associazione Madonna dei Miracoli di Andria ha conferito il premio Donna dell'Ano a due neolaureate del Politecnico di Bari che hanno lavorato su una tesi relativa all'architettura planetaria. A servizio di Luca Ciciriello. Due neolaureate in architettura del Politecnico di Bari premiate come donne dell'anno dall'Associazione Madonna dei Miracoli. Si tratta di Ivana Fuscello e Isabella Paradiso Andriesi, classe 96, autrici insieme ad altri quattro colleghi di una tesi sull'architettura su Marte. Il progetto prende il nome di IveMars, quindi il primo insediamento umano sulla superficie marziana e tutto è partito grazie al professor Giuseppe Falacare, il nostro relatore Vittorio Onetti che ci ha proposto appunto questo tema estremamente interessante sulla space architecture. Il progetto ha come obiettivo quello di costruire il primo insediamento appunto su Marte che ospiterà un equipaggio di otto membri e che ovviamente prevede diversi tipi di aree pronte al sostentamento di questo insediamento. Il team Archimars si è avvalso dell'aiuto dell'Università di Houston. Loro ci hanno dato la possibilità di poter sfruttare tutti quei documenti riferiti proprio al tema della space architecture, quindi ci hanno fornito una bibliografia che noi abbiamo consultato, appunto è stato il nostro primo approccio al tema. L'associazione ha istituito il premio otto anni fa nel periodo in cui ricorre la novena per la solennità del ritrovamento dell'immagine della Madonna dei Miracoli. Le due ragazze hanno ricevuto una lampada votiva dei fiori e una pergamena perché con il loro lavoro hanno contribuito alla riflessione sul tema fede e scienza. Questo lavoro di tesi in realtà non si ferma qui. Noi stiamo partecipando anche ad una conferenza internazionale che avverrà a Lisbona prossimo luglio e ovviamente stiamo cercando di far conoscere questo progetto a livello italiano proprio perché è un tema estremamente di nicchia. Per cui noi attraverso il nostro canale YouTube cerchiamo di tramandare appunto di incuriosire gli utenti su questo tema e usciranno anche degli articoli su alcune riviste italiane inerenti proprio al tema. In realtà non escludiamo delle esperienze fuori, quello sicuramente li abbiamo messi in conto, però è anche vero che possiamo sfruttare quelle che sono le esperienze anche fuori Italia per poi portare quel bagaglio qui in Puglia perché comunque noi crediamo nella nostra tradizione, crediamo nel nostro territorio e quindi crediamo nel miglioramento. Quindi sì, sicuramente faremo esperienze magari fuori anche al nord Italia per arricchire questo bagaglio per poi portare le nostre conoscenze di nuovo qui, quindi nella nostra terra.